Primato solitario dopo sei giornate, chi l'avrebbe mai detto? Avvio senza dubbio promettente, ma cammino ancora molto lungo e irto di insidie. In questo primissimo scorso il Pescara ha dimostrato di essere una squadra. Ordine tattico, solidità, compattezza e spirito di corpo sono le caratteristiche peculiari. Lunedì alle 20.45, confronto interno col neopromosso Carpi. All'Adriatico finora una vittoria su Autorete al 93 contro la matricola pianese. In trasferta tre vittorie in altrettante gare contro Ternana, Rimini e Dentella. Dunque sul piano dei numeri il primo obiettivo è migliorare il trend casalingo. In realtà sotto il profilo della prestazione, parliamo di ritmo e intensità, i Biancazzurri hanno steccato solo col Perugia, senza tuttavia perdere non esattamente un dettaglio. Contro gli emiliani Baldini potrebbe rilanciare Moruzzi in difesa. Centrocampo in attacco scontato il ritorno tra i titolari di D'Agasso, Vergani e Cangiano. Il Carpi è una neopromossa dalla mentalità propositiva, prova sempre a giocare, non butta mai via il pallone. Out il trequartista Cortesi a causa di un problema muscolare patito nei minuti finali della sfida con Lascoli. Assenza pesante per il tecnico Serpini che si affida al 4-3-1-2. In attacco c'è Gerbi, ex Teramo Scuola Sampdoria. Dirigerà il match Niccolò Turrini della sezione di Firenze.